strategie per il futuro numero otto imparare ad imparare in che senso robin imparare a come si fa ad imparare qualcosa ma che dici robin che vuol dire? vuol dire semplicemente che tutto quello che tu hai imparato io ho imparato per la maggior parte degli anni migliori della mia vita in realtà non ho imparato una mazza di niente ma come robin tutte le cose che hai studiato hai fatto due hai usato per passare gli esami per i quali ti hanno dato i voti hai preso la maturità eccetera come puoi dire che non le hai imparate? le ho imparate ma non le conosco ho imparato a memoria delle formule dei nomi di posti dei nomi di cose tecniche delle classificazioni delle regole ma non ho capito come funzionano perché sono così e la maggior parte di queste tra l'altro proprio per questo fatto non sono mai diventate mie le ho dimenticate una volta che non ho toccato più quell'argomento lì perché non fa parte della vita reale o della vita degli aspetti della vita che a me interessano quindi il senso è forse e non ce ne siamo mai accorti non lo abbiamo messo mai in discussione ma gran parte di ciò che pensiamo di sapere non è altro che la memorizzazione di informazioni fatti spiegazioni o regole che vengono da altri senza alcuna analisi o comprensione del perché del per come queste cose funzionano perché sono state stabilite e impostate in una certa maniera quindi credo che uno degli obiettivi fondamentali per il futuro ma lo sarebbe dovuto essere da sempre è quello per noi esseri umani di imparare ad apprendere i motivi sono veramente sin troppo evidenti ma così seppelliti che è facile dimenticarli il primo te l'ho già detto ed è sapere è diverso da conoscere leggere un libro su come si fa a nuotare è diverso da nuotare quindi se voglio conoscere le cose e questo è l'obiettivo a cui mi riferisco non saper recitare delle informazioni che ho acquisito senza metterle mai in discussione credo che sia lo stato nel quale dovremmo essere per poter condurre delle vite intelligenti e poter creare realizzare raggiungere i nostri sogni obiettivi questo perché numero uno numero due già in parte anche questo te l'ho detto a scuola non ce lo insegna nessuno né tampoco all'università nel 99 per cento dei casi c'è qualcuno che si dedica ad insegnarci a condividere a mostrarci esempi di come apprendere realmente le cose è come dato per scontato no le cose si apprendono che io parlo per un'ora te le spiego tu poi ti riguardi il video ti risenti l'audio ti leggi il libro fai il compito che ti ho assegnato e questo vuol dire imparare le cose quindi se non c'è nessuno che si dedica a questa cosa bisogna che ognuno indipendentemente faccia dei passi per poterlo ottenere motivo numero tre la vita per come la vedo io è un percorso di continuo apprendimento anzi direi che oserei dire che la vita è lo scopo della vita di tutta la vita è quello di apprendere di raccogliere informazioni elaborarle e di processarle per far sì che la vita continui quindi la vita è un percorso di continuo apprendimento siamo qua per imparare siamo qui per migliorarci per raggiungere obiettivi diversi da quelli che avevano quelli che ci hanno preceduto vogliamo andare più in là quindi se è vero almeno in parte che la vita che viviamo è una vita che serve per apprendere per fare esperienze per sbagliare conoscere beh allora sarà importante che io e te conosciamo bene come si fa ad apprendere perché abbiamo questa opportunità davanti agli occhi servita su un vassoio d'argentio tutti i giorni ma spesso pensiamo che l'apprendere il sapere venga da leggere dall'ascoltare io non credo perché ho scoperto in prima persona e con tutti coloro con i quali ho collaborato aiutato condiviso fatto percorsi insieme di crescita che l'apprendimento vero è qualcosa di diverso è qualcosa di diverso da qualcuno che ti fa una lezione dall'alto in basso spesso non avendo nemmeno le capacità di comunicare in maniera chiara ordinata sintetica comprensibile e non è fatto da leggere memorizzare informazioni che stanno scritte da qualche parte senza poterle mai mettere in discussione senza mai poterle analizzare senza mai farci qualcosa di concreto che non sia rispondere a un questionario sul libro dei compiti per apprendere bisogna tuffarsi dentro le informazioni le attività i movimenti che vogliamo fare nostri e nuotarci dentro sbagliando scassando delle cose rimettendo le apposte facendo miliardi di domande così come avverrebbe nel momento che io insieme ad un amico che sa ballare bene un certo tipo di ballo gli chiedessi senti chiami anche quell'altra tua amica e quell'altro amico che sono bravi come te e così siamo un paio di coppie almeno e mi fate vedere mi insegnate come ballare in questa situazione non ci sarebbe nessuna insegnante che va in cattedra gente obbligata a stare seduta in silenzio dall'altra eppure sono nozioni passi movimenti regole se vuoi vedere il parallelo ci sta ma se ti immagini questa lezione cos'è è un continuo immergersi in quelle informazioni e regole un continuo provare divertirsi gli esperti con i principianti allo stesso livello è un percorso di esplorazione fatto in maniera giocosa positiva e non con lo scopo di ti faccio vedere delle cose poi se tu non me le fai rivedere uguali bisogna che studi e finché non me le fai vedere uguali non le sai due modi di apprendere far proprio le cose molto molto diversi quindi io credo che la vita è proprio un percorso nel quale dobbiamo far nostra questa capacità di apprendere le cose non per sentito dire non perché l'ho letto non perché l'ho visto ma perché ci sono andato dentro e l'ho sperimentato il quarto motivo per cui è così importante imparare ad apprendere è che ci sono un sacco di cose da imparare nella vita veramente un'infinità e devo dirti per lo più non sono quelle che noi sulle quali noi investiamo la maggior parte del tempo che sono quelle che voglio dire che impariamo a scuola nell'università dove ok abbiamo fatto una scelta vogliamo imparare delle cose però tutti gli anni della scuola che sono molti di più di quella dell'università secondo me dedicano una grandissima quantità di ore ad imparare cose che non sono poi quelle che veramente servirebbero di più nella vita da sapere ma me le tengo da parte per un momento quindi motivo 4 è che dal mio punto di vista ci sono un sacco di cose da imparare quindi meglio so apprendere ciò che voglio conoscere e meglio potranno andare le cose per me nella mia vita numero 5 è un peccato secondo me mi riaggancio a quello che ho appena detto buttare gli anni migliori della propria vita non avendo l'opportunità di apprendere veramente senza essere indottrinati cioè io vedo la scuola fatte le dovute eccezioni come un posto nel quale sei indottrinato letteralmente ti viene raccontata una versione della storia una versione di solito della religione un modo di fare sport che è uguale per tutti ma non c'è una scuola dove invece vengono aiutate alimentate innaffiate le passioni personali gli interessi reali di queste anime così aperte così assetate di conoscenza che come fai a metterle in dei canali a insegnarle a tutti la stessa cosa la stessa velocità allo stesso ritmo ok finché si tratta di leggere scrivere o fare dei conti possiamo 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 accettare dei compromessi ma su tutto il resto ho delle difficoltà a pensare che il tempo sia così ben speso per cui poiché ho dei figli e poiché amo i giovani amo i bambini e penso al loro futuro credo che questo sia un perché che riguarda soprattutto non solo noi ma anche loro e quello che noi facciamo con loro o quello che forziamo loro a fare obblighiamo loro a fare eppure noi dovremmo averla imparata la lezione ma se mi guardo intorno non mi sembra così motivo numero sei per cui secondo me è un'ottima strategia per il futuro imparare ad apprendere come apprendere che il perché come dire l'apprendere lo studiare qualcosa di estremamente piacevole e gratificante eppure diciamo nella coscienza comune non è così no e il fatto è che ne abbiamo dimenticato il vero significato abbiamo dimenticato ecco che l'apprendere il conoscere davvero è più quella situazione dell'imparare a ballare con un amico che non la classe dove sei incatenato al tuo banco e qualcuno ti parla per un'ora di cose che a volte proprio non riesci neanche ad afferrare che non hanno nessuna relazione con la realtà è una cosa meravigliosa poter studiare e conoscere insieme ad altri è una sensazione fantastica quindi perché non desiderare di studiare di conoscere di apprendere sempre di più nella maniera migliore possibile possibilmente insieme ad altri tuffandosi dentro ciò che si vuole conoscere avendo l'opportunità di fare errori senza essere giudicati o eliminati per questo motivo io credo valga la pena imparare ad apprendere numero 7 imparare il vero imparare è un ancora di salvataggio nelle situazioni più difficili che ci possono capitare nella vita perché le situazioni difficili sono quelle dove come dire sei fuori dalla tua zona di comfort e devi trovare soluzioni a cose apparentemente insolvibili nel momento che hai costruito hai allenato te stesso ad apprendere nuove cose nuovi modi di operare di essere di comunicare di ascoltare avrai quella flessibilità e quell'estrasc spazio di coraggio di aprire una breccia in direzioni inesplorate che chi non ha mai imparato ad apprendere non si è mai tuffato nelle informazioni nelle regole da conoscere non le ha mai messe in discussione non le ha mai manipolate per crearci qualcos'altro avrà difficoltà a fare sarà totalmente arrugginito al poter fare e quindi il saper apprendere è un ancora di salvataggio fantastica per poter uscire a testa alta da situazioni difficili e impreviste concludo dicendo in un'economia delle informazioni come quella nella quale ci troviamo oggi il saper apprendere apre molte strade e opportunità per essere imprenditori knowledge entrepreneurs imprenditori delle informazioni della conoscenza ma come lo si può essere se ancora viaggiamo sul binario di sapere uguale a conoscere e per sapere basta ascoltare leggere ripetere rispondere a domande passare il test prendere il pezzo di carta adesso sai quella cosa ma che sai non sai veramente niente sai essere un soldatino che ripete ciò che gli è stato detto di ripetere questo è da bread a friend io sono robin good il podcast dedicato a coloro che vogliono diventare punti di riferimento nella loro nicchia di mercato condividendo vero valore e coltivando relazioni di lunga durata se mi vuoi seguire altrove cerca la mia newsletter su google oppure seguimi su telegram cercando il canale marketing online per imprenditori indipendenti se mi vuoi sostenere prendi in considerazione la possibilità di diventare mio sostenitore o sostenitrice su patreon ciao 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 ciao